Piove in due aule dell'artistico Candiani di Busto, lo denunciano gli studenti, lo conferma la dirigente scolastica. Sicuramente la provincia di Varese è in prima linea per la manutenzione degli istituti superiori, ci assicura Valentina Verga, vicepresidente bustocca dell'istituzione a cui spetta intervenire, che prosegue. Abbiamo già messo a terra un sacco di progetti utilizzando i 40 milioni di euro del PNRR per la manutenzione straordinaria, con interventi grossi. Anche per quanto riguarda quella ordinaria come le perdite, di certo ci mobilitiamo subito. Soltanto che gli istituti sono tanti e le loro condizioni precarie, nel senso che purtroppo sono strutture vecchie e quindi dobbiamo spesso intervenire. Però la provincia di Varese è davvero molto attiva su questo fronte, motivo per cui Verga spiega di sentirsi tranquilla. Speriamo dunque che i secchi per la pioggia nelle aule possano sparire presto.